Ciao a tutti i tifosi Nerazzurri, voglio mandare un saluto a tutti, siamo in un'altra finale, un abbraccio forte, un saluto. Sono contento che abbiamo Razzurri a finale, sempre Forza Inter. Ciao a tutti i tifosi Nerazzurri, siamo noi ancora in finale e ci vediamo il 24 maggio a Roma. Dai, andiamo! Ciao ragazzi, Forza Inter, ci vediamo a Roma, sempre Forza Inter. Ciao! Dai, siamo in finale, andiamo a Roma! Ciao ragazzi, un'altra finale, tutti insieme, proviamo a vincerla, tutti insieme, dai, Forza Inter!